piano ecco potrei farvi salire di lì si può fare vieni aspetta che salgo di lì se volete provare si trova paura eh vabbè mando avanti Giampaolo così lo riprendo vai avanti a 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